Ciao a tutti, benvenuti su Friendly Point of View of Innovative Technologies. Oggi voglio parlarvi di un prodotto eccezionale della nostra gamma. Forse non lo sapete, ma noi produciamo anche accessori e profili in acciaio inox e acciaio zincato. Nel nostro catalogo e impronta consegna abbiamo due misure principali, il profilo da 50 mm per panelle da 45 mm e il profilo da 40 mm per panelle da 25 mm. Oggi con me il profilo da 50 mm per il pannello da 45 mm. Oltre ai profili angolari offriamo anche profili omega, 50 omega e angoli, tutti realizzati in acciaio. Possono essere in acciaio inox 316 o 304, oppure in acciaio zincato. Lo spessore del profilo è di 1 mm, ma è possibile personalizzare e ordinare altre dimensioni. Questi elementi possono essere saldati insieme o rivettati. In questo esempio il rivetto è all'esterno, ma può essere posizionato anche all'interno. I profili vengono forniti in lunghezza da 4 metri, ma i clienti possono tagliarli su misura, oppure possiamo consegnarli già tagliati alla lunghezza finale. La cosa fantastica di questo prodotto è che può essere completamente personalizzato. Se avete bisogno di misure diverse, spessore, tagli o altro, possiamo farlo. È la nostra specialità. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao!